Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca martedì nel pomeriggio dell'ospedale di Padova con un borsone che era rimasto in auto ed era contenente alcuni effetti personali del padre appena morto, è stato praticamente derubato, rubato da un marocchino. Il marocchino poi è stato ritrovato con il segnale che l'iPad che era contenuto appunto nel borsone mandava in onda. Denunciato quindi il 39enne protagonista di questo furto che risiede a Torreglia. E' un arresto per spaccio, è stato effettuato in queste ore in zona Arcella in piazzale Azzurri d'Italia dai militari del gruppo della Guardia di Finanza di Padova impegnati in un servizio antidroga nel quartiere. In manette è finito un tulusino di 18 anni, il giovane si trovava in compagnia di altri connazionali. Alla vista della pattuglia cinofila è scattato il fuggifuggi generale. E ladro in azione questa notte attorno alle 2 al distributore Total lungo la strada regionale 308 a Borgo Ricco. Un uomo è stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza mentre forzava con un piede di porco la colonnina del self-service senza però riuscire ad asportare nulla. Ad uccidere Samuele Donatoni, rispettore dei NOX di Rovigo la notte del 17 ottobre 1997 lungo l'autostrada a Roma l'Aquila fu un colpo di Kalashnikov sparato dai sequestratori di Giuseppe Sofiantini e non da un proiettile di una beretta in dotazione alla polizia. L'ennesimo ribaltamento di una vicenda che si trascina ormai da 20 anni è contenuto in una nuova consulenza dell'ingegner Cristian Bettin dal professor Corrado Cipolla e del dottor Felice Nunziata per la difesa di Claudio Sorrentino l'agente dei NOX che insieme a Stefano Miscali è a processo per calunnia. La nuova consulenza si articola in 127 pagine delle quali attraverso i calcoli, comparazioni e varie analisi scientifiche i consulenti di Sorrentino arrivano alla stessa conclusione alla quale giunsero i periti nominati dalla procura di Roma già nel primo grado di giudizio. E appartamenti per le vacanze affittate in nero da proprietari tedeschi e americani a propri connazionali che appunto hanno evaso tasse dovute in base alle convenzioni sulla doppia imposizione stipulate dal loro paese con l'Italia. E' questo il risultato di un'indagine condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo migliaia di euro di affitti nascosti al fisco italiano dagli sbadati, si fa per dire, proprietari all'interno di Albarella. La normativa italiana stabilisce infatti che la proprietà di un immobile situato in Italia è condizione sufficiente affinché i redditi da loro prodotti siano tassabili nel nostro Stato indipendentemente dalla nazionalità del proprietario. Sono 11 i soggetti individuati e nei quali nei confronti si procederà ora per il recupero di quanto dovuto. arrestato dopo il controllo lungo la A13 dalla polizia stradale all'altezza di Vescovane e portato poi in carcere a Rovigo. In manette un rumeno di 43 anni beccato a bordo di un Audi A4 nel pomeriggio di ieri. L'esito del controllo è emerso che l'uomo deve scontare per un cumulo di pene, un anno e due mesi e 16 giorni per sfruttamento della prostituzione minorile, favoreggiamento all'ingresso irregolare di extracomunitari e reati contro il patrimonio. Una pentola di acqua bollente rovesciata addosso alla propria figlia adolescente perché stava impiegando troppo tempo per cucinare quanto le era stato ordinato. Questo fra l'altro sarebbe soltanto uno dei tanti episodi che hanno portato ieri al rinvio a giudizio un uomo di origine albanese accusato di lesioni e maltrattamenti in famiglia. Insieme a lui è finita sotto processo anche la moglie, nonché la mamma della figlia. La Procura di Udine ha trasmesso alla Procura di Vicenza gli atti di indagine relative alle oltre 100 denunce presentate dai correntisti e risparmiatori friulani della Banca Popolare di Vicenza che lamentano di essere stati raggirati nell'acquisto delle azioni dell'Istituto di Credito Vicentino. Lo si apprende dal procuratore capo di Udine Antonio De Nicolocchi e ha trasportato tutti i fascicoli di indagine appunto per competenza ai colleghi veneti. Torniamo alla cronaca, fervono i preparativi per il fine settimana alla fiera di Padova che ospiterà, lo ricordiamo, nei padiglioni la storica auto-moto d'epoca. Già nella giornata di oggi sono arrivati i primi preziosi gioielli automobilistici e le moto d'epoca. Infatti al loro arrivo molti curiosi lungo via Tommaseo per ammirare quello che è un pezzo della ricca manifestazione di questo prossimo fine settimana. 178 nuovi posti di lavoro, 16 per under 35, 162 per disoccupati, 220 mila euro destinati. Seguono così le politiche attive dell'amministrazione comunale di Padova volte a creare opportunità e occasioni di lavoro per i giovani e per le persone disoccupate che si trovano in situazioni di disagio sociale ed economico. occupiamoci di Padova dedicato quindi ai senza lavoro. Nel dettaglio con Valorizziamo le esperienze giovanili. L'amministrazione padovana destina anche 96 mila euro per 16 giovani che saranno ritribuiti con buoni lavoro voucher e occupati per sei mesi per 25 ore settimanali pari a circa 9.600 ore complessive. Oltre a utilizzare i mezzi e le trezzature del comune il lavoratore riceverà un'idonea formazione per lo svolgimento delle proprie mansioni. E saranno 162 le opportunità di occupazione per i disoccupati in particolare altri 123 mila euro previsti e 81 posti di lavoro grazie al progetto Occupiamoci di Padova. Mirato e soprattutto a ricollocare in attività lavorativa cittadini e residenti disoccupati che hanno maggiori difficoltà di ingresso e di reingresso nel mondo del lavoro. Anche per questo progetto verranno pubblicate a breve le modalità di adesione. Questa mattina 10 magistrati europei hanno visitato la questura della città di Padova per conoscere i compiti e le funzioni dei rispettivi uffici della Polizia italiana. I giudici provenienti da Francia, Germania, Lituania, Spagna, Polonia, Romania, Croazia, Svezia e Finlandia in questi giorni stanno partecipando ad uno stage formativo nell'ambito del progetto di unificazione dei sistemi giuridici dedicati al patto di Schegen. La delegazione accompagnata dalla dottoressa Martinez del giudice del Tribunale Ordinario di Padova è stata accolta dal questore Gianfranco Bernabei e successivamente è stata accompagnata a visitare la centrale operativa del 113. L'esposizione Super Robot World Padova Centro Culturale Altinate dal 17 marzo al 21 maggio prossimi allo scopo di illustrare attraverso disegni originali, animation, manifesti, giocattoli e memorabilia l'impatto epocale di un'idea che ha conquistato il mondo e che è stata particolarmente apprezzata nel nostro paese facendo aggiungere a mitologia moderna alcuni dei più importanti protagonisti di un'avventura che pare non avere fine. L'avvio della mostra coincide anche con B-Comics, il nuovo festival dedicato ai fumetti manga, ai games, videogames e all'animazione che ha l'ambizione di imporsi tra i più qualificati a livello nazionale. Festival e mostra sono stati promossi e quindi presentati alla stampa e dall'assessorato alla cultura del comune di Padova e da Arcadia Arte. Sentiamo cosa ci ha detto l'assessore alla cultura del comune di Padova, Matteo Cavatonna. A termine della mostra di Nosaio a San Gaetano, proprio nell'intento di voler continuare a tenere viva l'attenzione dei padovani e dei turisti su quel luogo, inaugureremo una grande mostra a mercato dedicata ai robot, principalmente giapponesi, ma sarà ovviamente un momento anche da un punto di vista culturale molto interessante perché finalmente Padova si apre a quella che può essere definita cultura popolare ma che fa parte dell'immaginario collettivo di ciascuno di noi. Ho a fianco Gig Robo che è presente a questa conferenza stampa di presentazione. Molto importante è dire che il 17, 18 e 19 marzo ci sarà un festival diffuso dedicato all'animazione, al fumetto e a tutto quanto riguarda appunto il mondo dei robot nella nostra città dove siamo sicuri che il coinvolgimento da parte della cittadinanza e dei turisti sarà massimo. E sempre a Padova è stato presentato questa mattina anche la manifestazione Arti Inferiori e la quattordicesima edizione, stagione teatrale del multisala Pio X. Si partirà già dal 17 novembre con Paolo Rossi e Rossi in testa, poi il primo dicembre Andrea Pennacchi con Io Falstaff e Shakespeare e quindi il 15 dicembre Ascanio Celestini presenterà Laica. Poi ci sarà ovviamente la manifestazione che proseguirà con altre date per l'inizio del 2017. Bene, chiudiamo qui la nostra pagina di informazione, come sempre ci diamo appuntamento alle prossime edizioni, ora la linea torna ai colleghi della redazione. Buona giornata. Buona giornata.